ben ritrovati oggi leggeremo questo libro che si intitola io vado ma chissà dove andrà questo uccellino intanto se volete iscrivetevi al canale così potrete ascoltare ancora tante storie lette ad alta voce per voi vediamo doveva l'uccellino vediamo o questa volta ho deciso io vado mamma io vado d'accordo ma mettiti il maglione che potrebbe fare freddo papà io vado portati la torcia se dovessi tornare tardi nonna io vado eccoti dei biscotti se ti venisse fame nonno io vado mettiti il mio cappello che potrebbe esserci il sole ehi io vado oh tieni ti presto il mio libro se per caso ti annoi scoiattolo io vado vuoi il mio ombrello e io vado prendi la mia radio così ti sentirai meno solo grazie a tutti eccomi sono arrivato davvero bella vero questa storia se vi è piaciuta un bel like sotto al video e iscrivetevi al canale per ascoltare ancora tante storie lette ad alta voce per voi